Altra beffa nei minuti finali per la Pistoiese, questa volta in casa dell'Arezzo, 2-1 a favore degli Amaranto e risultato finale, una vittoria dei padroni di casa arrivata all'86esimo, quando tutto sembrava andare verso un pareggio che sarebbe stato in fondo il risultato più giusto per quanto visto in campo. Una Pistoiese che arriva al città di Arezzo con assenze importanti, oltre agli ancora infortunati Minardi, Regoli e Rovini, danno forfè a poche ore dal match anche gli attaccanti forti e latte-latte, quindi si rivede dal primo minuto Cellini. Un primo tempo dai ritmi molto bassi, con l'Arezzo che si fa vedere in diverse occasioni in avanti, ma mai così pericoloso, fino al 32esimo, quando trova il gol del vantaggio. Luciani calcia e il suo tiro diventa un passaggio per Brunori, che da buona posizione non sbaglia, portando i suoi sull'1-0. Si accende ora la gara, c'è un momento in cui la squadra di Dalcanto, oggi squalificato, sostituito in panchina da Lamma, manovra il gioco controllando il match e mettendo un po' in difficoltà gli ospiti. Allo scadere dei primi 45 minuti, il risultato vede ancora in avanti l'Arezzo. Nella ripresa, una pistoiese più convinta, ci prova Luperini al 53esimo, il suo tiro viene deviato in angolo. Non smette di crederci la squadra di Mister Asta, che continua a recuperare palloni e costruire azioni per poter trovare il pari, e ce la fa al 67esimo con il Kawakibi. Ottimo il tacco di Cellini, con l'italo marocchino che di prima intenzione lascia partire la botta dell'1-1. Tutto torna in perfetto equilibrio. L'Arezzo concede molti spazi agli arancioni, che ne approfittano poco, e così fanno anche i padroni di casa, hanno un paio di occasioni dove il pallone se ne va sopra la traversa. Nonostante tutto è proprio l'Arezzo a tornare in vantaggio, con il colpo del neo entrato Cutolo, che con una punizione da distanza siderale decide l'incontro 2-1, e regala tre punti d'oro all'Arezzo, che vola in seconda posizione in classifica, insieme alla Provercelli. La Pistoiese invece chiude il girone di andata con soli 14 punti, che vuol dire ultimo posto.